Ciao a tutti, sono Lorenzo, titolare di Coccole Crocche, il nuovo negozio aperto qui a Montecatini in via Agobassi 26, è un negozio che si occupa di toilettatura, accessori per cani e gatti e alimentazione, consulenza nutrizionale. Partirà da prossimamente una rubrica sul sito www.mismontecatini.it che si occupa del benessere e della cura dei cani. Vi aspettiamo a trovarci in negozio per qualsiasi informazione e anche sul web. Ciao a tutti, grazie!